Palla a spicchi e canestri di solidarietà. L'attiferno pallacanestro offre alle bambine e ai bambini ucraini presenti in città la possibilità di praticare sport nei luoghi di svago e di gioco. Abbiamo colto la notizia che nel nostro comune stanno arrivando i profughi ucraini e ospiti di Villa Muzzi e praticamente abbiamo mandato una mail al comune che siamo disponibili a fornire la nostra attività sportiva di pallacanestro gratuitamente a tutti quei ragazzi che ne vorranno fare uso. E chiaramente è una luogia nel mare in questa situazione. Però siamo convinti che se ci aiutiamo a vicenda con tutte le associazioni e chiunque i soggetti partecipanti a questa iniziativa di accoglienza sicuramente il risultato sarà ottimo perché questi ragazzi vengono via da una situazione drammatica e ospiti nella nostra città potrebbero integrarsi sia a livello scolastico che a livello sociale. E quindi lo sport in primis aiuta a soddisfare questa situazione. Noi siamo pronti, li accogliamo con i nostri ragazzi, gli forniremo gli abbigliamenti sportivi e tutto quello che è necessario per farli divertire. E collaborando con il Comune, secondo le indicazioni che ci darà l'assessore allo sport e tutti i soggetti interessati, siamo sicuri di ottenere un buon risultato. Un'azione che ha trovato l'ok anche dall'assessorato allo sport del Comune di Città di Castello che si è messo a disposizione per coordinare e raccogliere eventuali altre iniziative da parte di tutte le altre società sportive della città.